Sono sul punto di diventare famosa e non ho nessuna intenzione di rovinare tutto ora. Un aborto favorirà la mia carriera. Il prossimo anno non voglio avere un bambino. Voglio diventare famosa, alla guida di una range rover rosa brillante, e voglio comprare una grande casa. Niente potrà intromettersi sulla mia strada. Sembra una frase paradossale, ma Jose Cunningham, escort 23enne inglese, l'ha davvero pronunciata in questi giorni. In Gioco c'è la sua eventuale partecipazione al grande fratello, e lei, a bloccare la sua scalata alla celebrità non ci pensa nemmeno, soprattutto, se la motivazione è quella di un figlio. Il Regno Unito assiste così alle sue discutibili affermazioni, quelle di una donna incinta, che non può dire, con certezza, se il padre sia un calciatore della Premier League o un cliente a caso, con cui, ha avuto rapporti negli ultimi mesi. Fatto sta, che l'emittente, televisiva l'aveva, contattata, per prendere parte all'edizione, per poi tirarsi indietro, all'improvviso, una volta saputo della sua gravidanza. E, stato allora, che Jose ha cominciato a considerare un aborto. Dopo l'operazione, tornerò da loro, e gli chiederò, se potrò ancora partecipare al reality. Sarebbe certamente lecito chiederle, se abbia preso in considerazione l'ipotesi, che, pur dopo l'aborto, la produzione possa non essere più interessata a farla entrare nella casa. Chi se ne frega.